Salve a tutti ragazzi e bentornati su Guido Su Server 2 Qui a Reddits con Brilliant Bob Si, Brilliant Bob Me l'ha regalato Mr. Reset Quindi devo ringraziarlo In effetti l'ho già provato E praticamente è una mappa parkour Cioè diverse mappe parkour Vi faccio vedere Noi siamo questo cosetto cubico E niente, dobbiamo Scegliere i livelli Questo è il livello 2 in pratica Ed è molto semplice Ve lo faccio vedere Cosicché abbiate In testa un po' il giochetto Guardate sono veramente velocissimo Sono bravissimo Sono finito nel mondo C'è un mouse che mi rompe le bale Ecco Questi sono i livelli più semplici Ma noi vogliamo Assolutamente fare i livelli Molto più difficili Quindi start the game again E andiamo a fare la scelta Senza cadere Mi raccomando Ok Ma io adesso dovrei evitare La scelta dei livelli La scelta dei livelli è la cosa Pessima di questo gioco Oh eccolo lì Quello è il quinto Ecco Oh ok Come cazzo Spio C'è Ah Ecco Allora siamo arrivati al Sesso No Cavolo ma Ma pure la scelta dei livelli Deve essere così brutta Di tutti i cazzi Preferisco rifarli i livelli Anche perché con il joypad Oh Sto giocando adesso No Non voglio fare il quarto livello Voglio arrivare al cacchio Di sesto Con il joypad Per girare la La visuale E dai Oh Devi usare I dorsali Oh Invece del Manovella Che sarebbe stata molto più semplice Manovella eh Che termini tecnici Ok Dobbiamo prendere i cubi Ma più che altro Dobbiamo finire Molto molto velocemente Senza ci fa vedere la mappa Perché la prima volta la facciamo Ci fa vedere molto molto velocemente Come funziona Ah mi sta pestando Come vedete C'ho pure la vita Oh Ah aiuto Ok Vabbè Sto arrivando Oppa Portami Portami Alla fine del livello Yeee Che cazzo è successo No Non mi avrete mai Ah aiuto Aiuto Oh Ma che cazzo è successo Ma è buggato È l'ercio È marcio Come direbbe il buon Zepp Ma Ma che Cazzo Ah ma sono quei cosi Ok Non riesco Non riesco a finire il gioco Perché ci stanno ste merde Che mi impediscono di Dai Lasciatevi andare Guardali Guardali Se li facessi cadere Tipo Ecco Cado pure io Ok Dobbiamo trovare il modo per ammazzarli tutti Quindi che raccogliamo Questi Perché non vi ho detto che si possono raccogliere Ah 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 C'ho tre di vita Oh perfetto Ah uno è caduto però Ok No l'ho buttato Devo raccogliere No Ok Sono caduti tutti Imbecilli come poche cose Ok Non la voglio vedere la mappa Come si fa a schieppare questa cosa Ok Alcune mappe sono veramente simpatiche Devo dire la verità Allora Proviamo a saltellare Il problema è anche che Ci sono un po' di controlli ostici Dove ostici significa difficile Che cazzo scompare Che cazzo scompare No pure questo scompare Oddio Oddio No 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 Ok ci riprovo in velocissimità Ah No 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 Grande Bob Vai Ci riprovo Devo essere veloce Coordinare i miei passi Eccoci Ai cacchio Eh Non so se sono bravo Minchia E mo Questo è tosto Qua muoio Muoio Morirò duemila volte No 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 Oddio 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 Arrivo No Bastardo Mi ha trollato La piattaforma che mi trolla Oh Oh Girati Ma guarda quella Puc***a Che Eva Non si dicono le valoracce Dai dai No Pattaforma trollante Ok allora Me la devo prendere con più calma E zacche E zacche E zacche Torna Dovrei raccoglierli Ah Ah ho capito Il funzionamento E mo E zacche E quello sarà un po' difficile Adesso Ho Ho giro la camera Cam No 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 Ma è tosto Ok ci siamo Oh capo Maledetta Dai All right Qui Bisogna saltare Credi nel gioco Ci credere nel gioco Ok, allora ci risiamo Bello tosso sto livello Quando arriva la fine di corsa mi spinge un po' a destra Mi ha fatto perdere l'equilibrio Merda, che cacchio ridi, che ridi Ok ci siamo Attenzione ci provo, ci provo Ci riesco Ci siamo Ok E allora tipo no, no, no scherzo No, no Oddio Unity ha fatto tanti danni Non assassin, screed Questo è perché è fatto con Unity L'engine Che è molto semplice A quanto pare Allora ci siamo Eccoci Ok Di fila, di fila, di fila Sapete perché è difficile Ve lo Perché è una merda Perché i controlli sono una merda A parte quello Non si capiscono le distanze Quindi non riesco a calcolare Dove devo andare Ok ci siamo No, vedete che arrivo a fine di corsa e mi sposto Guarda Boom Ok Ok Vola Oh no Oh no C'è La supercorsa della vita No So esattamente come fare Perché io uso La forza La forza La forza Di non dire Paralance Ok Ok ci siamo Ci siamo Ci siamo E via Oh Sto qua Cubo quadrato di merda Ok Devo aspettare Ci siamo Boom Ok Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no E come faccio lì a evitare di toccare quella testa Quadrata di merda che hai Dai Non funziona Ok E via Salta Salta S'imparare No Devo farcela Devo farcela Ok Iperconcentrato Iperconcentrato Sì Ce la fai Ce la fai Ce la fai Ok Ci Se I Ragazzi ho calcolato al millesimo Oddio Devo girarmi Devo girarmi Oh ok Ce l'ho Oh merda No l'ho toccato con la capoccia bastarda Bastinca bastarda Ci li siamo Ah Ci li siamo Oh Credi in te Credi in te Cazzo Non ci credi in te Merda Non ci credo nemmeno io Ah Salta Salta l'ultima Forma Tonna Questi doppi salti Non riescono Vaffan No Ok Basta Non ci gioco mai più Ho sto gioco di merda Vaffan Mister re La prossima volta Se no mi dai un gioco Migliore di questa Minnezza Non ci gioco Che schifo 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 Che schifo